A un paesaggio già mozzafiato come quello del Sebino sta per aggiungersi anche una colonna sonora grazie alle note della prima edizione del Festival Musicale Internazionale Onde Musicali sul Lago di Iseo. L'iniziativa presentata questa mattina presso l'Accademia Tadini di Lovere ha in calendario 52 concerti e ingresso gratuito che si terranno dal 12 maggio al 23 settembre nelle maggiori location di pregio di tutti i comuni che si affacciano sul lago. Il Festival Onde Musicali sul Lago di Iseo è organizzato dall'Accademia Tadini di Lovere con la direzione artistica di due solisti della Levatura Internazionale, il chitarrista Claudio Piastra, già direttore artistico dell'Accademia Tadini e il pianista Massimiliano Motterle. Saranno 50 più due perché abbiamo due anteprima che cominceranno venerdì di questa settimana e sabato una a Sanemarasino e l'altra a Taverno alla Bergamasca e quindi è il primo segnale di apertura del Festival con un concerto sulla Sponda Bresciana e uno sullo Sponda Bergamasca. È un'iniziativa nuova nel modo in cui viene presentata certamente sul territorio di musica, di concerti da anni, da secoli, ce ne stanno moltissimi, ma soprattutto il carattere di novità di questa iniziativa, di questo festival, chiamato Onde Musicali sul Lago di Iseo, sta proprio nell'aver messo insieme tutti i comuni del lago, a cui si è aggiunto anche Fonteno, quindi 17 comuni che tra di loro hanno collaborato per la realizzazione di questo evento. Come avete operato nell'organizzazione artistica di questo festival? Innanzitutto con grande entusiasmo perché è stata una straordinaria opportunità di offrire quello che spesso si dice ma poche volte si fa, cioè una grande opportunità per giovani di grande valore. Io insieme al maestro Massimiliano Motterle, che dividiamo appunto la direzione artistica, abbiamo iniziato a pensare a giovani di particolare valore, usciti vincitori da concorsi internazionali o selezionati da alcune università o conservatori italiani, ma anche non solo italiani, esteri e europei e poi giovani di particolare valore che magari hanno frequentato i masterclass che noi organizziamo tutti gli anni qui in Tadini, ci sono giovani provenienti da tutto il mondo. Questo è stato il taglio e un'altra cosa dal punto di vista musicale che ci ha voluto contraddistinguere è proprio quello di offrire una serie di concerti molto variegati, con formazioni diverse, utilizzo a volte anche di strumenti non troppo conosciuti, non troppo frequenti nelle sale dei concerti e quindi mettere insieme questo mix che esposi la tradizione più profonda, a quale noi Tadini siamo molto legati, all'innovazione laddove ovviamente rimanendo sempre in quello che è il nostro tema, la musica classica, la musica cameristica.